L'arrivo era stato annunciato per la tarda serata, ma poi rimandato al primo mattino. Così alle prime luci dell'alba l'imbarcazione Rise Above dell'organizzazione non governativa tedesca Lifeline è giunta nel porto di Bari. A bordo 85 migranti recuperati durante la navigazione nel Mediterraneo. Le condizioni di salute sono abbastanza buone. C'è gente che scappa, che ha attraversato insomma tante difficoltà. Noi in questo momento pensiamo alla primissima accoglienza. Tra i migranti 10 le donne e 26 i minori, di cui 23 non accompagnati. Abbiamo soltanto visto i bambini più piccoli, un bambino di 9 mesi e un bambino di 2 anni, entrambi accompagnati dalle loro mamme, di cui una mamma molto giovane, minorenne anche ella. Il più piccolo aveva avuto febbre, quindi una probabile febbre da disidratazione, anche qualche segno sul corpo che però abbiamo appurato non di violenza, ma diciamo di incidenti per correre appunto dalla polizia che tentava di inseguire. E lo abbiamo condotto presso il nostro ospedale, dove probabilmente sarà visto dai colleghi che sono in reparto e forse è messo a ricovero avendo anche la mamma minorenne. Un altro piccolo invece di 2 anni era in migliori condizioni, abbiamo fatto delle prime cure e non abbiamo ritenuto di farlo andare in ospedale. Terminate le operazioni di sbarco, tutte le persone giunte nel porto di Bari sono state trasferite nella Fiera del Levante per le operazioni di fotosegnalazione e assegnazione alle rispettive destinazioni. I minori troveranno una sistemazione in strutture, diciamo, deputate a questo, quindi qualcuno andrà nelle strutture di Taranto e di Brindisi e qualcuno, in casi più fragili, il comune di Bari troverà una sistemazione. Noi abbiamo bisogno ancora di tante altre strutture, in particolare per minori ma anche per adulti. Intanto anche nel porto di Leuca nella notte è approdato un peschereccio con a bordo 129 migranti dopo aver superato le difficoltà dovute alle diverse condizioni meteo-marine. Discrete le condizioni degli uomini e delle donne a bordo provenienti dall'Afghanistan, tra cui anche 40 minori disidratati e affaticati dal viaggio.